Il suo corpo era umido, sudava e non parlava più. I medici ci hanno detto che l'udito è l'ultimo dei sensi che i malati terminali perdono. Stavo tutto il giorno a parlarle, dilatavo il tempo. Mi sembrava che più un momento ricordasse, più lei potesse rimanere con me, curiosa di ascoltare. Resta ancora un poco. Padre Matteo mi dice, sopravvivono tutti quelli che hanno creato un proprio mondo. Ma non esco senza convinzione. Ho sempre detto ai miei giocatori di tenersi, di pensarsi insieme. Un unico corpo. E ora, tutto in me si disgreda. La seconda volta che siamo andati a Parigi, dopo un giorno terribile in ospedale, prima di addormentarsi mi ha chiesto, perché la vita mi è passata addosso così rapidamente. Non sono riuscita nemmeno a firmarla, avvicinarmi, darle del tutto. L'ho stretta a me di gentile. Generazioni di filosofi non hanno saputo rispondere. Vuoi che lo faccia un'allenatrice? Ha riso. Mi sono sentita utile. La seconda volta che conta una volta che puzzano e non ha sottile a tanto che Robertson. Chi pizzas. Mi sono sentita utile. Cosa cosa che vuoi la prima volta che paura? Grazie a tutti